In questa edizione del DNews, la camera dà l'ok definitivo alla DDL stabilità, la manovra adesso è legge, bagarre per il Movimento 5 Stelle. La Giunta regionale ha dato il via libero alla DEF, al bilancio triennale di previsione 2015-2017 e al disegno di legge per l'esercizio provvisorio fino al 30 aprile. 15 ex dipendenti della Bingo Family passati alle dipendenze di Eliodoro SRL protestano incatenati davanti la sede legale di Via Gabriele D'Annunzio contro la decisione dell'azienda di procedere al loro licenziamento. A Mineo donato un alloggio ad una famiglia povera, iniziativa del progetto di housing sociale promosso dalla Fondazione di Comunità Don Luigi Sturzo, in sinergia con il Consorzio Sol Calatino. James Bond Concert Show, presentate due serate all'insegna della musica e della solidarietà, il cui ricavato sarà per una parte devoluto in beneficenza alla Caritas di Catania, per l'organizzazione del pranzo del 6 gennaio prossimo, nella mensa dell'Help Center, sito accanto alla stazione ferroviaria Etnea. Crescere oltre le aspettative oggi è possibile, con Banca Base, insieme ai consorzi FIDI, l'evoluzione professionale, medica e scientifica. Trova una base solida e trasparente per il tuo credito. Banca Base, oltre le frontiere di una semplice banca. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore, perché è dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità, sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più presigiosi. Corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Guardare oltre alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rimenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle province 35. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni, affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014. Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. L'Aula di Montecitorio ha dato il via libera finale al DDL di stabilità. La manovra per il 2015 è legge. I voti favorevoli sono stati 307, 116 quelli contrari. La Camera ha dato l'ok definitivo anche al DDL bilancio. Il provvedimento è stato approvato con 302 voti favorevoli e 108 contrari. I punti cardine restano quelli voluti dal Governo che su alcune misure non ha accettato compromessi. A partire dal bonus da 80 euro che viene reso strutturale per la platea inizialmente prevista, quella dei lavoratori dipendenti compresi tra gli 8.000 e 24.000 euro di reddito annuo. L'approvazione della legge di stabilità a Montecitorio è stata però caratterizzata dal colpo di coda del Movimento 5 Stelle in una delle giornate più lunghe per i grillini, che hanno dovuto vedersela anche con la fuoriuscita delle loro file di tre parlamentari. I pentestellati hanno deciso di smuovere le acque in questo secondo passaggio alla Camera, scatenando in più occasioni una vera e propria bagarre. Nell'accorso della votazione degli emendamenti, i 5 Stelle hanno tentato con tre distinti blitz di occupare i banchi riservati in aula al Governo, spingendo il Presidente Laura Boldrini ad espellere in varie tornate una quindicina di deputati. Dagli 80 euro al bonus bebè, dallo stop e rincari di Tasi e Canon e Rai, fino al rinnovo dell'eco bonus, sono molte le norme che influiranno sulla vita delle famiglie, così come sull'attività d'impresa e sul mondo del lavoro. Le nuove soglie per le partite IVA non sono piaciute al Parlamento, che da destra con Forza Italia e Fratelli d'Italia, a sinistra con Cesare Damiano del PD, hanno criticato il giro di vite di un Governo che degli autonomi si interessa ancora poco. Salve dunque le vacanze di Natale per i parlamentari, ora l'attenzione si sposta sull'Europa, in vista del giudizio finale di marzo. Onorevole Burtone, la Camera ha dato l'ok definitivo al DDL di stabilità, adesso è diventata legge, quali le novità? Soprattutto la riduzione dell'IRAP, questo significa che si pongono le condizioni per avviare una nuova politica dell'occupazione. Non sarà semplice, non sarà facile, è necessario che si aggiungano sostegni ai settori produttivi, però questo strumento, la diminuzione dell'IRAP per le aziende, significa una minore tassazione, si abbassano le tasse, e quindi c'è una possibilità in più da giocare per determinare nuovo lavoro, nuova occupazione. Accanto a queste misure, poi ci sono altre che toccano il settore sociale, la disabilità, la non autosufficienza, se si considera che a tutto ciò si sono aggiunte anche i consolidamenti riguardo agli 80 euro che erano stati dati precedentemente a dimostrazione che non era una promessa elettorale, queste sono le basi, poi ci sono tutte le altre voci che riguardano uno strumento finanziario più complessivo che è inserito in bilancio e che ci danno un quadro di un'Italia che rispetta i patti con l'Europa, però che guarda al futuro e che vuole, soprattutto senza enfasi, ma con sobrietà far ripartire l'occupazione, che è il vero dramma oggi della nostra comunità nazionale. Non sono mancate le bagarre in aula, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle? Guardi, l'opposizione va rispettata quando porta avanti alcune questioni importanti. Quelle del Movimento 5 Stelle trovano sempre al proprio interno poche motivazioni e credo anche una riduzione di contributi, di idee, si stanno inaridendo e tutto ciò porta loro ad esprimere questa forma un po' folcloristica dell'opposizione, mi sembra irriguardoso nei riguardi delle istituzioni. E mentre la Camera dava il via libera alla DDL stabilità rendendolo operativo, l'attenzione di alcuni nostri parlamentari era tutta rivolta alla partita tra Juventus e Napoli che assegnava la Supercoppa italiana. Come si vede dalle immagini, armati di tablet o smartphone, i politici non si sono persi neanche un minuto della vincente finale, terminata solo dopo i tempi supplementari e 18 calci di rigore. Un vero e proprio crimine ai danni dei cittadini del mezzogiorno perpetuato nell'indifferenza delle regioni segnatamente in Sicilia. Lo scippo dei fondi PAC voluto da Renzi e dal suo PD contribuirà significativamente ad aggravare la già precaria economia dell'isola. Lo dichiara il senatore Vincenzo Gibino, membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia e coordinatore del Movimento Azzurro in Sicilia. Con la complicità di Crocetta siamo stati privati di risorse che sarebbero servite a dare un lavoro a migliaia di padri di famiglie disperati, a sostenere aziende in crisi per colpa di una politica sorda e incapace. Al Senato sono stato promotore del voto contrario dei parlamentari del Sud alla nefasta legge di stabilità voluta dal governo, dice Gibino. I rappresentanti azzurri si sono mostrati compatti, ma quelli del PD hanno deciso di seguire il loro capo e dimenticarsi della propria gente. Adesso è venuto il momento di combattere, i siciliani così saranno orientati alla ribellione fiscale. Lo Stato da qualche anno a questa parte, conclude Gibino, affama coloro che dovrebbero difendere e diventato mero detrattore. A questo Forza Italia dice basta. E sulla questione è intervenuto l'onorevole Giovanni Burtone. E onorevole, proprio sulla legge di stabilità è intervenuto il senatore Gibino parlando di scippo sui fondi PAC della Sicilia. Guardi, è un modo stucchevole di guardare i fondi europei quando questi non spesi vengono dirottati su altro. Questi fondi saranno utilizzati per dare la possibilità di nuova occupazione, di creare contratti a tempo indeterminato, incentivi per le imprese. Ci lamentiamo dei fondi europei. Da qui al 2020 ci saranno miliardi di euro per il mezzogiorno. Il senatore Gibino, ricordi che quando sono stati loro al governo non hanno saputo in questo senso operare. Per il futuro, il nostro impegno deve essere quello di utilizzare le risorse. È immorale quello che è avvenuto in Sicilia, in particolare in questi anni, del non utilizzo di risorse che avrebbero potuto sconvolgere in meglio la nostra comunità. Ora si operi, si utilizzino queste risorse, non guardiamo sempre al passato. Queste risorse sono state sottratte dopo che per tre anni la regione siciliana non le ha utilizzate. Quindi mi auguro, spero, che le regioni a mezzogiorno vengano sollecitate continuamente ad utilizzare queste risorse. Se non dovessero essere in grado, io già in un intervento in aula ho detto vadano commissariate, anche quelle a statuto speciale, perché se questi fondi non vengono utilizzati nei prossimi anni sarebbe un grave danno per la nostra economia. Noi abbiamo il dovere di operare al meglio, specie in questa condizione di difficoltà. Quindi non guardiamo ai soldi che se ne sono andati, guardiamo alle tante risorse che ci sono e che arriveranno e con dignità e con fermezza e con determinazione cerchiamo di spenderli bene. La Giunta della Regione Siciliana nella seduta di ieri sera ha approvato il documento di programmazione finanziaria, il bilancio di previsione 2015-2017 e il ricorso all'esercizio provvisorio. Vi è libera anche su proposta dell'assessore al lavoro Bruno Caruso al provvedimento di stanziamento per i processi di riqualificazione tecnologica dei dipendenti dei call center Accenture, dopo l'accordo raggiunto nel tavolo romano la settimana scorsa. La Regione mette a disposizione i fondi e monitorerà la riqualificazione effettiva dei dipendenti. Verranno applicate tecnologie avanzate per rendere il personale occupabile. Questo piano è stato molto apprezzato da British Telecom, che si è congratulato con il governo e dalle organizzazioni sindacali, ha sottolineato il governatore Rosario Crocetta. Chiesta dalla Giunta Crocetta, riunitasi sino a ieri sera, la dichiarazione dello stato di calamità per ulteriori comuni nella provincia di Agrigento, Catania, Messina e Siracusa, in seguito all'ondata di maltempo del 5 novembre scorso. Infine è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica a Gaetano Chiaro, su proposta dell'assessore alla salute Lucia Borsellino. 15 ex dipendenti della Bingo Family di Molino Franco, passate alle dipendenze di Eliodoro SRL e di Umberto Gulisano, da ieri protestano incatenati davanti la sede legale di Via d'Annunzio 110 contro la decisione dell'azienda di procedere al loro licenziamento. Una decisione presa senza alcun giustificato motivo, ha spiegato il segretario generale della Filcam CGL di Catania, Salvo Leonardi, che si è detto preoccupato per l'esasperazione raggiunta dai lavoratori. Parliamo di licenziamenti illegittimi e anche di qualcos'altro, perché questi lavoratori, a mio modo di vedere, sono stati assunti e presi in giro, perché è vero che abbiamo un accordo dove ci dovevano essere 15 persone del vecchio Bingo Family che dovevano transitare alla nuova struttura, ma è altrettanto vero che questi lavoratori sono stati assunti per poi essere cacciati sol perché non hanno superato il periodo di prova. Noi abbiamo chiesto quali fossero i criteri perché queste persone non abbiano superato il periodo di prova, ci è stato risposto dal dottore Gulisano che lui a casa sua può fare questo ed altro. Noi non siamo d'accordo su questo qui, perché questi lavoratori hanno dato tanto al Bingo Family, questi lavoratori hanno i requisiti per poter stare lì, ma non accettiamo neanche l'arroganza di chi, a mio modo di vedere, non ha neanche l'esperienza per poter gestire un Bingo. Noi abbiamo chiesto a più riprese un tavolo di concertazione, non stiamo chiedendo nulla, non stiamo chiedendo assunzioni, noi chiediamo un tavolo di concertazione perché lì ci sono dei lavoratori e non ce l'abbiamo con questi lavoratori che non hanno un minimo di esperienza e sono stati assunti sicuramente perché avranno gli sgravi fiscali. Allora su questo noi non ci stiamo, noi vogliamo un tavolo, la protesta non si fermerà qui perché se è il caso andremo anche a parlare con sue eccellenze il prefetto e se è il caso spiegheremo anche che all'interno di questo Bingo ci sono delle irregolarità palesi. Così sgombriamo il campo. È stato arrestato dal personale del commissariato di Acireale, un uomo di 40 anni della Cese, per il reato di violenza sessuale nei confronti della figlia minore di 14 anni. Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia di una donna agli agenti del commissariato la quale ha segnalato che la propria figlia aveva subito dei reati di abusi sessuali dal proprio padre. Gli accertamenti hanno raccolto prove che hanno comprovato gli abusi subiti dalla ragazza, un'adolescente. Secondo quanto ricostruito, finora il padre rimaneva da solo con la figlia e la invitava a vedere film pornografici sul proprio computer e poi abusava di lei. Già immediatamente dopo la denuncia della donna, il marito era stato allontanato dal nucleo familiare. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, il comando provinciale dei Carabinieri di Catania ha predisposto dei servizi tesi al contrasto dei reati. Ieri sera un giovane pregiudicato senza fissa dimora, senza alcuna esitazione, si è scagliato contro un ammauriziano, prendendolo a calci e pugni e lo ha costretto a consegnargli il cellulare e il portafogli, peraltro contenente solo dei documenti. L'episodio non è passato inosservato ad una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Piazza Dante che dopo un breve inseguimento lo hanno bloccato e arrestato. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele dove i medici del pronto soccorso gli hanno diagnosticato un trauma cranico con frattura ossa nasali e una prognosi di 30 giorni. Il 29enne nigeriano è stato rinchiuso nel carcere di Catania a Piazza Lanza con l'accusa di rapina e lesioni personali. Ed ancora il 18enne Ali Mohamed, originario del Mali, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale per furto aggravato e porto abusivo di arma impropria. I militari lo hanno beccato in Piazza Teatro Massimo a Catania mentre si stava allontanando con una borsa sottratta poco prima all'interno di un pub ad una ragazza di Sant'Agata Li Battiati. Ed ancora stanotte due ladri dopo aver forzato una porta d'ingresso secondaria hanno pensato bene di fare una visitina all'interno dell'ex hotel delle Terme di Acireale a Catania già chiuso da qualche anno per razziare diverso materiale idraulico. La sorte ha voluto che un vigilante se si accorgesse della porta violata e che ha avvertito in tempo reale il 112 che immediatamente ha inviato sul posto una gazzella. I due carabinieri appena giunti sono entrati nell'albergo e hanno sorpreso i due mentre erano ancora intenti a smontare gli infissi. Gli arrestati, il 32enne Platania Antonio e un 26enne entrambi di Catania sono stati relegati ai domiciliari. Ed infine i carabinieri di Randazzo hanno arrestato in flagranza un 23enne del posto per tentato furto aggravato in concorso. I militari lo hanno bloccato mentre con l'aiuto di un complice fuggito tentava di forzare la sala cinesca d'ingresso dell'esercizio commerciale Etnafrutta a Bronte. È stato donato ieri un alloggio ad una famiglia povera. Maria Concetta Gulizzi e Maurizio Sbrizzi adesso hanno una loro casa. Le chiavi dell'alloggio nel centro storico di Mineo sono state consegnate con un fiocco rosso natalizio a questa famiglia di quattro persone, casalinga lei disoccupato lui. Un atto di generosità che è la conseguenza del progetto di housing sociale promosso dalla fondazione di comunità Don Luigi Sturzo in sinergia con il consorzio Sol Calatino. Ancora una volta grazie alla lungimiranza e alla filantropia di un'impresa sociale del territorio che è il consorzio Sol Calatino abbiamo ottenuto le risorse necessarie per acquistare questo immobile, ristrutturarlo, renderlo abitabile e metterlo a disposizione appunto in housing sociale di una famiglia poco abbiente. Questo deve essere un esempio per altri imprenditori ma per altre famiglie anche che magari hanno degli immobili che in questo momento possono rappresentare soltanto un peso economico per le tasse che sono costretti a pagare, che devono pagare. Magari possono anche donarle questi immobili pensando agli ultimi, pensando ai più bisognosi per realizzare altre iniziative di questo tipo. Siamo qui per dire grazie a tutti coloro che ogni giorno sono protagonisti di percorsi di benessere e benvivere, percorsi che aiutano le persone in difficoltà a guardare con maggiore fiducia al proprio futuro. Questa è l'occasione, l'occasione migliore attraverso un messaggio concreto. Consegniamo un'abitazione a una famiglia che non aveva casa, questo è un messaggio concreto di speranza e il modo migliore per augurare un felice Natale e un buon 2015 a tutti nella nostra dimensione personale e comunitaria. A tagliare il nastro per l'inaugurazione dell'immobile che è stato acquistato dalla fondazione grazie alla donazione ricevuta appositamente dal consorzio Sol Calatino è stato il sindaco di Mineo, Anna Loisi. Con questo si raggiungono due obiettivi importanti. Uno è quello chiaramente di dare un'abitazione a chi non ce l'ha, a chi si trova in uno stato di necessità. Noi sappiamo che la famiglia che verrà ad abitare è una famiglia che non ha un'abitazione, che ha due bambini piccoli. Dall'altro si raggiunge anche un altro obiettivo che è quello del risparmio da parte dell'ente. Già da diversi anni il comune di Mineo garantiva a loro la possibilità di pagare un affitto per poter avere una disponibilità di un'abitazione. Quindi si raggiungono due obiettivi, ma lo si raggiungono grazie veramente alla collaborazione fondamentale e importante delle cooperative. In un momento in cui si parla solo male delle cooperative sociali, noi siamo qui a dimostrare invece che non si può fare di un erbo a un fascio. Ed è per questo che noi ci sentiamo di ringraziare, di certo, il consorzio Sol Calatino per questa donazione, nonché della comunità Don Luigi Sturzo, che ha permesso ad una famiglia di poter vivere in maniera serena. L'intramontabile mito di James Bond è della ricca filmografia che lo contraddistingue e sbarca a Catania. La suggestiva occasione è offerta da due serate, il 3 e il 4 gennaio 2015, all'insegna del sano cibo, della musica e soprattutto della solidarietà, nell'originale cornice di Skyfall Ristol Lounge Bar. Nell'occasione saranno i Forever Bond ad esibirsi nel magnifico spettacolo James Bond Concert Show, il cui ricavato sarà per una parte devoluto in beneficenza alla Caritas di Catania, attraverso l'organizzazione del pranzo del 6 gennaio prossimo nella mensa dell'Help Center, sito accanto alla stazione ferroviaria Etnea. L'evento organizzato e promosso da Skyfall è stato presentato ufficialmente oggi. Ad oltre 50 anni dall'uscita del primo film di James Bond, il noto gruppo musicale proporrà uno spettacolo che renderà omaggio al mito di 007 attraverso le canzoni più celebri tratte dalle colonne sonore dei film dedicati al famosissimo agente segreto. Il James Bond Concert è un live show nel quale convivono l'energia di una band composta da sette elementi e una selezione di canzoni famosissime, tutti brani entrati ormai nella storia del cinema e del rock. Presente alla conferenza l'organizzatore dell'evento Salvatore Logreco e il direttore della Caritas di Catania Don Piero Galvano a conferma di una collaborazione tesa alla beneficenza nei confronti dei più bisognosi che avrà opportuno e costante seguito anche in futuro. È una serata molto particolare nel senso che tutti con il loro contributo cercheranno di dare una mano d'aiuto all'help center di Catania nella persona di Don Piero e poi anche perché è un evento particolare, perché saranno presenti alla serata dei personaggi che condividono il tema di 007 in maniera profonda. Sono il presidente del club di 007 in Italia che è Ilario Citton, sarà presente anche Federico Neri che è il fotografo ufficiale della rivista Mr. Bond, è anche lui membro ufficiale di questo fan club, ma soprattutto sarà presente Francesco Prando che è il doppiatore di Daniel Craig e di tanti altri artisti americani. La musica, abbiamo scelto questa band perché si chiama infatti James Band Concert Show perché eseguiranno tutte le 23 colonne sonore dei 23 film di James Bond, tra l'altro colonne sonore molto conosciute in Italia e soprattutto agli appassionati di 007 che abbiamo scoperto essere in tanti. Io ringrazio il dottor Logreco per questa iniziativa perché si è aperto alla solidarietà, se lo facessero in tanti altri ristoranti, aprire il loro cuore alla solidarietà, penso che sarebbe qualcosa di positivo e di bello. Io lo ringrazio perché è l'inizio di una collaborazione, attenzione, io ripeto sempre, non ha senso dar da manciare alle persone una volta all'anno. Allora, col dottor Logreco ho accettato perché lui, avendo un'azienda agricola, dunque donerà i propri prodotti settimanalmente o quando potrà, ecco, alla carica sui cittadini catanei, soprattutto per mantenere la mensa dell'Epicenter. Dunque, vorrei invogliare anche tante altre persone che ci stanno ascoltando ad aprire il loro cuore. Ecco, dico al Signore che vuole nascere in ciascuno di noi, quando c'è la sua presenza, allora noi lo riconosciamo nel volto del fratello e della sorella. Entrerà in funzione questa sera il parcheggio di Piazza Carlo Alberto, con annesso il servizio bus-navetta, che porterà nel centro storico, favorendo così uno sviluppo più armonioso della Movida. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Catania, guidata dal sindaco Enzo Bianco in collaborazione con Sostare e l'azienda metropolitana Trasporti. Il servizio funzionerà dalle 21 alle 3 e sarà di 2 euro il prezzo del biglietto integrato, che darà diritto a fruire sia del parcheggio sia del servizio di navetta per un'intera serata di utilizzo. L'operazione va incontro alle esigenze dei tanti giovani e non solo che affollano il centro nelle ore serali e renderà la zona meno caotica. I residenti della zona a traffico limitato potranno parcheggiare gratuitamente sia in Piazza Carlo Alberto sia nelle vie dove sarà prevista la sosta notturna, sempre dalle 21 alle 3, con una tariffa sempre per i non residenti complessiva di 2 euro. I residenti potranno ritirare i pass per la sosta gratuita presso l'ufficio abbonamenti di Sostare in via Aldebaran numero 11, mercoledì 24 fino alle 13. I parcometri ricadenti nella zona hanno già inserita la dicitura della nuova sosta notturna. Grazie per la visione!